per la sostituzione con arbitro italiano e un altro giudice sempre italiano. Per cui vedremo Adrio Zannoni, dirige il combattimento. Adrio Zannoni reduce da aver diretto il 17 scorso l'incontro tra Emanuele Della Rosa e Nefzi a Iub alla Prazzetto dello Sport di Roma con il titolo internazionale WBC in palio. In effetti una direzione straordinariamente lucida da parte di Zannoni. Assolutamente sì, lo commentavamo poco prima della diretta. Prestazione arbitrale veramente eccellente per Adrio. Quindi un in bocca al lupo anche a lui. Esattamente, è un incontro difficile per il nostro Di Giacomo. L'onenga Moc si è presentato anche con un piglio determinato e minaccioso dal punto di vista sportivo. E siamo alla prima delle 12 riprese per questo tentativo di Lorenzo Di Giacomo di togliere la cintura della comunità europea all'olenga Moc, pugile congolese di nascita, danese di nazionalità. Moc sembra partito già con il piede. L'idea è chiara all'olenga Moc con il suo jab. È più alto il campione. È più alto e tenta di sfruttare le caratteristiche delle braccia più lunghe nel miglior modo possibile. Quello è il gancio di Di Giacomo che dovrà passare, credo stasera, attraverso l'incontro di estrema sofferenza. Perché per arrivare a dar fastidio all'olenga Moc dovrà necessariamente accorciare la distanza. E dovrà quindi esporsi alla tecnica. Ecco. Il sinistro di Di Giacomo. Questa è la strada. Ottimo tempismo da parte di Di Giacomo. Montante sinistro di Di Giacomo. Piega per un momento le ginocchia all'olenga Moc. Però Di Giacomo è rimasto un pochino a guardare gli effetti del colpo. E ha dato modo all'olenga Moc di assorbire, seppur in maniera brillantissima, il colpo. E di rimettersi in guardia. Ottimo inizio di Di Giacomo. Nonostante la brillantezza fisica, direi, di l'olenga Moc, che appare un tantino più prestante dal punto di vista muscolare di quanto non appaia invece il nostro pugile. Tra l'altro cede anche 100 grammi, come abbiamo sottolineato in apertura. Assolutamente in forma fantastica, nonostante le 38 primavere. Sì, fisicamente ineccepibile. Mentre Lorenzo Di Giacomo è sempre stato un pochino rotondino, rotondetto per meglio dire, ma è la sua caratteristica fisica questa. Al di là della preparazione, che sicuramente sarà al massimo, come sempre, da parte del pugile abruzzese. Che il suo lo dà sempre sul quadrato. Non l'ha mai deluso, si può vincere e poi si può perdere. Ma non l'ha mai deluso le aspettative. È stato un pugile costante durante tutta la sua carriera, che ricordiamo è cominciata nel 1997 da professionista a soli 19 anni. Quindi, pugile di lunghissima esperienza. Poi, sai, sconfitte contro Silvester e contro Asikainen, due campioni nel mondo, per cui tutto dire. E in due tentativi al titolo europeo. Diciamo che Silvester, con Silvester, se avesse combattuto in Italia, probabilmente quegli incontrano sarebbero andati in un'altra maniera, senza voler togliere nulla ai meriti del campione mondiale. Fase finale del primo round, intanto un po' confusa. Molti colpi a vuoto da una parte e dall'altra. Dopo le fiammate dei primi due minuti, poi i pugili hanno inteso calmarsi un attimo. Dieci secondi al termine della prima ripresa. A vuoto il gancio di Giacomo. Poi su Guantone il destro di Ronen Gamor, che termina. Una buona prima ripresa da parte di Lorenzo Di Giacomo. È suo il colpo più incisivo della prima ripresa. quel cortomontante che ora il regista Fabio Crisafi ci riproporrà probabilmente. Ricordo che le immagini sono sempre della esterna 3 di Napoli. Mentre potremmo anche sentire l'angolo di Giacomo. Ma voi con quel gancio destro forse non lo pigliate. Ma no, non lo piglio bene. Non lo so, non ho preso. Blocca e rientra subito su quel gancio destro. Rimane sempre sbilanciato su quel gancio destro, capito? Muovi un pochettino la testa di più, capito? Muovi un pochettino la testa di più, capito? No, pochi scambi. Muovi un pochettino la testa di più, capito? Muoversi giustamente per evitare di dare un bersaglio fisso alla pugile congolese. Sembra aver trovato la giusta distanza comunque. Di Giacomo? Assolutamente. Sì, ci ha messo poco. I primi secondi erano stati tantino pericolosi per lui con quel jab di Lonegamo. Sempre là. Poi è riuscito ad accorciare la distanza. E valava a fare quel mezzo passetto avanti di Giacomo nel momento giusto. Mette fuori tempo l'avversario che comunque è in grado di recuperare. Il destro di Giacomo che rimane sempre molto chiuso nella propria guardia. Questa volta entra con il sinistro Lonegamo. Lonegamo, il destro, la serie del pugile di colore. Ancora un cortomontante. Bruta fase questa per Di Giacomo con Lonegamo che lo sta sottoponendo a sede continue. e non riesce Di Giacomo a uscire da una forma di accerchiamento da parte del campione. Un'azione abbastanza tambureggiante dalla quale dovrebbe uscire forse muovendosi e girando un po'. Dando un po' di velocità alle gambe soprattutto. Cosa che non appare in grado di fare fino a questo momento Di Giacomo. Poco mobile, questo dobbiamo dirlo subito. Un pochino fermo, sì. Poco mobile, con un pugile che gli ha fatto quel forcing di quasi un minuto e venti. Avrebbe dovuto venire via in maniera un po' più agile, cosa che magari non è mai stata Lorenzo. Tuttavia in questi frangenti occorre fare qualche cosa per uscire da una fase tattica del combattimento che sembra un imbuto. Ecco. La reazione di Giacomo, poi il destro di Mock che sembra avere idee straordinariamente chiare. Ha preso il centro del quadrato e non lo molla. Il sinistro di Di Giacomo che tenta una reazione che non ha i crismi della precisione. Il destro da lontano di Lonenga Mock. Io credo che abbia subito qualche colpo di Giacomo nella prima parte della ripresa che ha sentito. Se rimane così non è un combattimento che lui possa gestire lungo. Non può rimanere passivo a subire i colpi di Mock. Uno, due di Lolenga. Segno montante di Giacomo che tenta la reazione. Poi montanti di Mock che incontra i guantoni. solo parzialmente il volto. No, non va così però. Mock sta andando a due mani. Deve trovare il modo di uscire. Il testo di Giacomo, sì. Non può rimanere lì e chiudersi e subire i colpi perché ne subisce troppi. Ne subisce troppi. Si è pur chiusi in maniera abbastanza ermetica. Si dice in uscita. Sempre molto lucido, d'accordo, Lorenzo. Ma mi sembra che il serrate di questa seconda ripresa ha dato l'impressione a Lenga Mock di stare combattendo la penultima ripresa e non la seconda. Ripresa assolutamente a favore del campione. Nettamente, nettamente. Sentiamo l'angolo subito, Crisati. Dammi il ferro, dammi il ferro. Dammi il giugaggio. Si è aperto? E' un po' congelo. Senti un po'. Dai, cominciamo a volare un po' più semanine. Come stai con le mani? Stai bene? Fammi lo inquadrare, aspetta un'altra ripresa. Guarda che cazzo. Però quei colpi nudi non hai. Quando sta vicino, porta i montanti anche tu, il montante destro. No, guarda, lui sembra che è vicino. Non ci sta vicino. Però lì l'hai preso bene con il montante. Porta qualche montante in più. Poi quando sta più è, guarda, non c'è qualche clincio. C'è da dire una cosa. La estrema lucidità di Lorenzo Di Giacomo. Di Clementi ha detto, quando è vicino, porta anche tu il montante. E gli ha risposto, guarda che sembra che stia vicino. In effetti, l'ampiezza di braccia di Mock ha inquadrato esattamente la questione. È il problema. L'allungo di Mock è notevole. Ha anche chiesto, dammi un'altra ripresa. Il tempo di... Forse di carburare, di inquadrare l'avversario. Però, Dio mio, lo vedo un pochino troppo lucidissimo, ma pesante. È troppo predisposto ad incassare queste serie di Mock che probabilmente non faranno forse molto male, ma ho i miei dubbi. Però sai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei colpi alla fine cominciano a pesare. Inevitabilmente. Comunque, siamo alla terza ripresa. Vuole forse portare l'incontro sulla lunga distanza. Probabilmente vuole approfittare dei sei anni di giovinezza e più. Occorre anche sottolineare come gli ultimi anni di Lorenzo siano stati molto a varie attività proprio per alcuni infortuni alla schiena, alla gamba. Insomma, non ha avuto l'attività frenetica in questi ultimi anni. Ancora la serie di Mock che comunque non è riuscito a colpire. È Guantoni, è tutto Guantone. Fino adesso è poco preciso. Sì. Si chiude bene, diciamo, anche di Giacomo in questa fase. Qualche jeb arriva. Montante buono di Lorenzo di Giacomo. Ancora il gaccio sinistro. quando riesce a partire io la farei più frequentemente anche se lui ha chiesto all'angolo datemi un'altra ripresa. Riesce a rubare il tempo ad entrare nella guardia comunque. Io credo che lui abbia cominciato bene e forse con un giro di motore esagerato si deve scaldare evidentemente. Diesel Lorenzo destro di Giacomo colpisce meno ma con più precisione rispetto all'Olengamock. Un po' più attivo vero? Assolutamente. In questo momento si. Riesce a leggere comunque in anticipo l'azione del Danizio. Sì è molto lucido come ha dimostrato lucidità all'angolo dello scambio di battute con il suo manager. in effetti si è un po' lamentato a Mock della testa di Giacomo che lo aspetta lì prontamente ripreso ancora un corto montante di Mock seppur soltanto di striscio il destro di Giacomo Mock però resta lì come vedi non arretra di un passo tuttavia di Giacomo non mi è dispiaciuto non vince questa ripresa ma non mi è dispiaciuto ho la sensazione che in effetti quello che lui ha detto all'angolo è un altro 1-2 di Giacomo bello quello che lui ha detto lo possa poi confermare sul quadrato vediamo una ripresa che Mock si aggiudica comunque anche per il gran numero di colpi che è riuscito a portare è costante nell'azione ma tanti non ha mai non si è mai fermato mai fermato sentiamo l'angolo Grisafi ecco qui abbraccia come stai perché quando muovi le braccia lo pigli anche con l'1-2 lo pigli bene prima si è andato con l'1-2 splendido dammi il ferro il ferro capito? come sta la braccia è essenziale all'angolo si ha chiesto per la seconda volta come stai a braccia come volersi sincerare della tenuta della guardia non so ma anche della velocità di esecuzione perché poi ha detto quando hai portato quegli 1-2 era sempre preso è certo siamo alla quarta ripresa vediamo Di Giacomo molto concentrato molto consapevole dell'occasione che gli è stata proposta a vuoto ancora si sottrae Mok ma non fa niente l'importante è che il pugile congolese si renda anche conto che davanti non ha soltanto Di Giacomo pronto a incassare per poi reagire ma anche pronto all'occorrenza ad attaccare senza attendere gli attacchi di Mok si è fermato poi a vuoto tutte e due fase poco lucida si è una fase un po' confusa per un grande a vuoto si si deve togliere però da questa tattica le corde Lorenzo non piace proprio perché sai prendere tanti colpi anche sulle braccia e poi te la pesantisce alla fine pesantisce assolutamente c'è adesso una ripresa si fa capire Adria Zanoni montante bloccato dalle braccia di Mok sinistro poi di Di Giacomo il destro di Di Giacomo attenzione alla testata di Mok più o meno involontaria più o meno anticipato di Giacomo prima poi il destro e poi il sinistro da parte del nostro pugile quando va in combinazione riesce sempre a colpire con il secondo colpo riesce ad entrare ma dovrebbe evitare di fermarsi sulle corde e subire tutti questi colpi che d'accordo non tutti vanno a segno ma in questo caso invece qualche cosa è arrivato di troppo schiaffone largo una sbracciata poco incisivo si abbassa anche un po' la guardia ha invitato l'avversario a non colpire basso però non è che si sia fermato Lengam Hock simpatico il codino della pelle di Leopardo del pantaloncino si della parte posteriore della pelle montante corto di Mock intanto spallata anche della pugile di colore campione della comunità europea campione in carica eh no non ci siamo però eh termina altra ripresa a favore di Mock eh sì io ero convinto di vedere una reazione diversa da parte di Giacomo quantomeno era quello che aveva promesso all'angolo non ci siamo non ci siamo non ci siamo netta ripresa a favore di provaci provaci anche con l'1-2 che li pia tutti 1-2 prima hai portato un bel 1-2 paura paura che si senta le braccia un tantino pesanti improvvisamente sembra non ci siamo Grazie.